Scene di ordinaria follia in tempi di emergenza, coronavirus, autobus scolastici strapieni, altro che il limite dell'80%. Le immagini parlano chiaro e riempiono di sdegno. È per questo che Artemisia e Adele, entrambe portavoce del liceo artistico di Nove, hanno deciso di denunciare la situazione che sta creando non poco allarme. Moltissimi alunni si ritrovano a dover salire e siamo letteralmente schiacciati come sardine, quindi si va a vanificare tutto quello che noi facciamo a scuola. Ammassamenti, assebramenti, poca circolazione d'aria e di conseguenza questo è rischioso sia per noi ragazzi che per chi guida, che anche per la salute nostra pubblica perché succede un incidente e comunque il bus va oltre la capienza del 100%. Hanno scritto una lettera a nome di tutto il liceo novese, l'ennesima ci dicono, in cui chiedono un trasporto efficiente, puntando il dito contro una compagnia specifica perché sentite un po'. La nostra critica nello specifico è rivolta alla SVT. Dopo diverse lettere si sono presentate, la SVT ha presentato in un documento delle corse aggiuntive che effettivamente quindi nel concreto poi non passano. Ci sono queste corse ma non sono reali e dopo questa noi ci siamo anche sentiti presi in giro e dopo questa volta abbiamo detto basta. Le corse aggiuntive ci sono quindi solo sulla carta di nuovi autobus, neanche l'ombra, roba da matti e come giocare alla roulette russa. Noi siamo rimasti davvero molto delusi, abbiamo deciso così di denunciare apertamente la situazione proprio perché si tratta della scuola per noi una parte fondamentale delle nostre vite ed è anche il nostro futuro. Noi entriamo come ragazzi ma usciamo come cittadini. Giovani con idee ben chiare che si rivolgono agli adulti che dovrebbero, ma il condizionale è d'obbligo, tutelare la loro sicurezza. Quello che vorremmo è che, quantomeno anche gli adulti o meglio la classe dirigente attuale ci proponga delle soluzioni e delle valide alternative a questo problema in modo da permetterci di continuare ad andare a scuola.